Dal 1969 modelliamo manufatti prefabbricati in cemento ed operiamo nell'indotto dell'edilizia pubblica e privata, garantendo i più elevati standard qualitativi che rispondono alle rigide e vigenti normative. Pozzetti prefabbricati di svariate misure, tubi in cemento con capacità di carichi speciali, scatolari per sottoservizi, barriere New Jersey, manufatti cimiteriali, cordoli stradali, canalette, vasche per acqua e tanti altri manufatti artigianali su progetto. Tutti i manufatti sono a marcatura CE. La professionalità e la serietà delle nostre maestranze altamente qualificate e specializzate consente di soddisfare anche la clientela più esigente. Ci troviamo a Via Grande in provincia di Catania in via Penninazzo 75 e da adesso anche in ACI Sant'Antonio in via Galileo Galilei. Per info chiamare lo 095 789 1019 o scriveteci a info.micbasile.com www.micbasile.it